ragazzi quindi in 20 minuti più giri possibili noi ce l'abbiamo messa tutta guardali bene questi ragazzi perché si sono spremuti fino alla fine credimi non guardare l'esercizio guarda lo spirito con cui si sono impegnati perché l'esercizio è adattato al momento in base alle proprie possibilità guarda bene fino alla fine ed iscriviti al canale allenati bene ciao 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 ciao